Bentornati, allora l'altro giorno sono stato in scala a vedere la prova generale di questa turandotte e ringrazio davvero l'amico Timothy per avermi invitato a vederla perché avevo cercato posti per la prima ma ovviamente erano esauriti da mesi ma le avevo cercate mesi fa, non è che le avessi cercate l'altro ieri comunque so, quindi mi ero rassegnato a non andare poi al fin fine mi è come dire sbucato fuori dal nulla questa possibilità di andare e ovviamente mi sono precipitato, anche perché comunque andare alla prova generale è esattamente come andare alla prima, cioè al netto magari di qualche cosa che potrebbe succedere la prima un momento qualche imprecisione vocale, un momento magari di un cantante non in particolare stato di forma ma al netto di questo la prima e la generale sono due spettacoli assolutamente identici l'unica differenza è che l'orchestra e il direttore non hanno il frac ma sono in abiti borghesi diciamo così per cui vediamo questo spettacolo parto subito con la regia di Davide Livermore a me la regia è piaciuta molto e sono veramente contento di dire questa cosa perché così nessuno mi potrà tacciare di essere quello che se non gli fanno una regia tradizionale rimane sconvolto e questo che vi sto dicendo è la dimostrazione di quello che ho sempre detto che quando una regia è intelligente, fatta bene, ma soprattutto il gesto scenico e la parola non vanno in contrasto a me va benissimo anche una regia attualizzata questo era semi attualizzato i costumi erano abbastanza tradizionali le scenografie erano decisamente più moderne però all'interno di questo impianto scenico si sono inseriti degli elementi veramente importanti dal punto di vista visivo dal punto di vista degli effetti, delle luci, degli schermi, delle proiezioni veramente uno spettacolo impressionante sembrava un film devo dire che la cosa che ho apprezzato è che Livermore ha voluto palesemente fare una cosa bella finalmente si è andati alla ricerca del bello poi qualcuno potrebbe non far coincidere questo bello con la modernità di certe soluzioni ma a me veramente è piaciuta tanto e ripeto dopo tante produzioni brutte dopo tante regie brutte vedere una regia visivamente bella fa solo piacere costata l'ira di Dio non voglio neanche non voglio neanche pensare è costata come un film ma la cosa più importante la cosa più importante che tutti i registi dovrebbero sapere e che invece apparentemente questo segreto che non viene detto nella scuola di regia è che tutto quello che accade dal punto di vista anche ripeto magniloquente in certi casi forse anche un po' pomposo delle scene degli effetti delle luci, delle proiezioni è sempre comunque collegato alla musica e quindi non vedrete mai la musica che dice una cosa e le proiezioni che ne raccontano una che non c'entra un tubo di niente o che ha un ritmo completamente diverso ecco questa cosa credo che sia importante dirla per dare a Cesare quello che dice Cesare perché di Livermore non avevo mai visto niente dal vivo la prima volta e sono veramente contento anche perché insomma tanti mi hanno dato delle come dire dei giudizi non particolarmente lusinghieri però vabbè ci sta comunque fa parte tutti non li può mai accontentare lo so anche io del mio piccolo del mio del mio canale youtube so benissimo che tutti non li puoi accontentare quindi comunque assolutamente la regia mi è piaciuta un paio di cose non mi hanno fatto impazzire cioè non mi è piaciuto come ha trattato proprio tutta l'area di Lutu che di Gilles Seicinta dove lei passa dall'essere ferma lì a andarsene in giro questa cosa veramente non mi è piaciuta non mi è piaciuto che praticamente lei si uccide sulla spada di Calaf e non come dice il libretto sulla spada di un soldato spada al coltello quello che volete perché questa cosa secondo me pone una serie di ulteriori ulteriori dovrebbe potrebbe porre una serie di ulteriori sensi di colpa su Calaf che invece 30 secondi dopo se ne è già dimenticata e quindi questa scelta non mi è piaciuta vediamo i protagonisti Timur è stato interpretato da Vitaly Kovalev una voce importante stentoria che mi piacerebbe francamente ascoltare su un ruolo un pochettino più lungo ma molto bravo molto apprezzato Liu è stata Rosa Feola bravissima come sempre io credo che veramente sia una delle voci più interessanti che abbiamo in Italia e credo che questo ruolo le si addica particolarmente anche fisicamente lei non è tanto alta un po' minute quindi secondo me questo ruolo veramente le si addice l'ha cantato con grande gusto con grande morbidezza di timbro vocale con dei veri piano è stata un'ottima esecuzione quindi io credo e tra l'altro forse nelle uscite finali i cantanti sono stati tutti apprezzati devo dire nelle uscite finali forse il boato più grande del pubblico è stato proprio per lei quindi rendiamo onore all'ottimo lavoro fatto e continuiamo a seguirla sapete che è già da un po' di tempo che la teniamo d'occhio e io credo che insomma abbiamo veramente un ottimo un ottimo elemento Calaf è stato Yusif Eivazov che conosciamo già che abbiamo visto anche sempre nella Turandot del Teatro San Carlo qualche mese fa che dire allora lui ha una tecnica che gli consente di sparare un rebemolle al mattino appena alzato mentre fa colazione questo è fuori discussione ed è stato come sempre nelle sue recite generoso generoso ho sparato una quantità di acuti veramente senza risparmiarsi resta il fatto che a me è un timbro proprio che non piace ma su questo non ci si può fare niente insomma diciamo che un professionista immarciscibile inossidabile non è più un ragazzino insomma però canta decisamente ancora tanto in tutti in tutti i teatri del mondo resta a mio modo di vedere un timbro che non mi piace un timbro che è un timbro che è sempre un qualcosa di patinato un po' di come se avesse una carta velina che lo ricopre insomma questa cosa non me lo fa particolarmente apprezzare però scenicamente non si è risparmiato e vocalmente alla generale come dicevo non si è risparmiato e comunque insomma è stato apprezzato dal pubblico e questo va assolutamente adetto passiamo a Turandot Anna Netrebko allora a me ha convinto molto e mi ha convinto molto anche se so benissimo che tanti diranno che non è il suo ruolo ma tanti lo dicono qualunque ruolo faccia Anna Netrebko io non so se è il suo ruolo o non è il suo ruolo dico però che è stata la prima volta che io ho sentito cantare Turandot come piace a me mi spiego Turandot è un ruolo veramente infame brutto dal punto di vista vocale Puccini ha scritto volutamente delle linee brutte per Turandot quantomeno brutte magari eccessive insomma delle linee vocali aspre linee vocali dure ok perché sono perfettamente coincidenti col personaggio che Turandot è un personaggio comunque negativo un personaggio freddo distaccato crudele antipatico quello che volete per cui non era plausibile che poi un personaggio del genere canti un'aria romantica con una melodia bellissima che vuol dire se Puccini avesse voluto scrivere per lei delle aree memorabili e di bellezza sconvolgenti lo avrebbe fatto se non l'ha fatto ci sarà una ragione la ragione è evidente per cui in questo senso il ruolo di Turandot è assolutamente molto ingrato e regolarmente mi è fatto molto urlato anche proprio ripeto per come è scritto e a me sta cosa veramente non piace non è mai piaciuta mi è piaciuta tantissime l'interpretazione di Anna Netrebko perché ha superato questo strillo e soprattutto nel secondo atto ha fatto delle dinamiche molto molto belle anche udite udite nel piano incredibile cioè Turandot non canta tutto forte tutto urlato tutto tutto fuori ecco c'è anche una parte un po' più intima che secondo me lei ha risolto molto bene poi lei comunque è una bravatrice quindi anche il personaggio non è un personaggio difficile dal punto di vista dell'attorialità però comunque sia secondo me lei ha risolto molto bene è stata molto apprezzata dal pubblico anche se ripeto secondo me non è stata lei quella che ha avuto il boato più grande però assolutamente apprezzata coro e orchestra allora il coro che l'ho sempre detto è una delle cose migliori di questo teatro veramente un coro di altissimo livello devo dire che nel primo atto soprattutto nella prima parte del primo atto ci sono state diverse sporcizie e il coro era perennemente indietro su diversi attacchi poi spero che questa cosa anzi mi è stato detto che nelle prove era anche un pochettino peggio poi magari questa cosa sta andando migliorando e magari nel corso delle recite verrà sistemato qualche piccolo problema di verticalità però ad onore del vero dobbiamo dire che ci sono due fattori che non hanno aiutato il coro uno certe attacchi il direttore e lo dico e ne parlerò meglio adesso che vi parlo il direttore ma soprattutto il fatto che la regia molto complessa che ha fatto fare agli artisti coro anche tantissimi movimenti anche proprio coreografici insomma molto belli l'epotista visivo belli niente da dire bellissimi però sicuramente quando già è un ingresso molto difficile molto scomodo che è già complicato prendere anche se è fisso impalato prenderlo giusto mentre ti muovi beh è chiaro che può dar luogo a qualche piccolo scollamento per cui francamente mi sento di assolvere il coro dalla responsabilità l'orchestra che sta sempre molto buona la conosciamo anche se devo dire che ieri sera non l'ho sentita come dire in uno stato di grazia ho sentito una buona una buona esecuzione in qualcosa anche ripeto probabilmente collegato alla direzione di cui parleremo a brevissimo dal punto di vista anche degli interventi degli strumenti solisti qualche piccola sporcizia piccole cose si è chiaro piccolissime cose però insomma ecco ho sentito una buona esecuzione cioè dire che l'opera è molto difficile è impestata ed è un'opera in cui è un attimo combinarla qualche qualche macello perché è talmente difficile ecco ovviamente vorrei spendere anche dieci secondi per parlarvi proprio della bellezza di quest'opera che ogni volta che l'ascolto forse la mia opera insieme a Tosca preferita di Puccini ma per a parte di una bellezza sconvolgente ma è avanti di 30 anni di 40 anni non lo so è veramente incredibile quello che ha scritto quest'uomo e mi spiace veramente che non l'abbia terminata tutta ecco devo dire che ho trovato la scelta dopo la morte di Liu che è il punto che ha scritto Puccini poi sapete il resto è l'opera gli ultimi minuti finali sono stati completati da Franco Alfano e il regista ha interrotto la recita diciamo così è uscita una scritta come dice qui è morto Giacomo Puccini e ha dato a tutto il pubblico una specie di lumino da accendere una specie di fiamma votiva da accendere in questo momento che doveva essere una sorta di minuto di silenzio che poi in realtà ha durato ben più di un minuto e non è stato di silenzio non c'è stato un lungo applauso comunque un po' ruffiana devo dire come scelta però insomma alla fin fine nell'anno del centenario è come omaggio a Puccini ancora che ripeto un po' ruffiano ci può stare quindi è andato bene così ecco quello che invece non mi è piaciuto della regia è stato il fatto che tutti i cori fatti dietro la scena erano amplificati e questa cosa io la trovo la trovo proprio sbagliata ma proprio amplificata intendo con i microfoni questa cosa è sbagliata per due ragioni innanzitutto perché falsa completamente le intenzioni dell'autore l'autore se ha messo il coro dietro la scena sa benissimo che quel coro si sente da lontano e si sente da poco è mica era scemo l'ha fatto apposta per cui amplificare il coro che a questo punto sentiva benissimo tutti gli interventi fatti dietro la scena innanzitutto ridice le intenzioni dell'autore e poi comunque va in contrasto con la natura acustica dell'opera e dell'orchestra sfalsi all'equilibrio sfalsi ai rapporti questa cosa devo dire non l'ho non l'ho per niente non l'ho per niente apprezzata e anche e le casse attenzione perché le casse erano nascoste bene nelle prese d'aria per cui non si vedevano però insomma se hai un po' di attenzione e te ne accorgi di queste cose poi comunque ho chiesto conferma a chi li dovere e mi hanno confermato che sì in effetti tutte le parti del coro dietro erano amplificate e poi questa cosa sfalsava anche certi altri equilibri non so io credo che un coro come quello della Scala non abbia bisogno di questi di questi aiutini ecco diciamoli così non ne hanno decisamente bisogno passiamo alla direzione di Michele Gamba allora diciamo che Michele Gamba ha sostituito Daniel Harding che non mi sarebbe spiaciuto francamente vedere vedere dal vivo non è mai facile entrare come direi in sostituzione per tutta una serie di ragioni che magari approfondiremo in un'altra occasione allora secondo me il suo lavoro assolutamente l'ha fatto anche se ho l'impressione che quest'opera non l'abbia diretta tantissime volte perché certe scelte proprio di di braccio non le ho capito non le ho capite devo dire che è un gesto molto chiaro soprattutto il battere è veramente chiarissimo e questo aiuta un'opera così difficile non sempre invece altrettanto chiaro il levare perché spesso e volentieri tende a fare le cose molto in uno che va bene quando hai fatto un milione di prove hai fatto un sacco di recite di quest'opera e con quest'orchestra va meno bene su certi attacchi soprattutto del coro ho detto prima qualcosa di impreciso c'è stato e secondo me è stato perché l'attacco il levare non era chiarissimo però devo dire che nel complesso le cose che non mi sono piaciute sono state due non ho sentito veramente quei contrasti dinamici che soprattutto nel primo atto sono tipici di un randotto quei piano improvvisi insomma che tolgono il fiato questa cosa non le ho sentita e poi devo dire che l'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è che molte cose sono state un po' tirate nel tempo e un po' buttate lì anche i finali il finale del primo atto il finale del secondo cioè generalmente si tende senza gigioneggiare ma a tirarli di più proprio per per tirar fuori dalle notte tutta la tensione drammaturgica della scena che stanno rappresentando invece sta tutto un po' buttato lì sembrava che si affretta di tornare in camerino ecco questa cosa non mi è piaciuta per cui nel complesso un giudizio positivo senza che mi abbia francamente strabiliato per cui il mio consiglio è assolutamente di andare a vedere questa produzione della quale non troverete biglietti però potete sapete prenderlo online potete comprare una delle recite successive e vi consiglio assolutamente di farlo e se per caso vi capito un biglietto non lasciatevelo sfuggire iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un commento lasciate un mi piace se avete piacere lo sapete da qualche tempo c'è la possibilità di abbonarsi per avere dei contenuti extra ed esclusivi e noi ci vediamo al prossimo video non mancate